Mi senti? Ciao Jack, adesso sì! Ciao Rosco! Ciao, hai sabotato il microfono? Che hai combinato? Non ti sentivo per niente? Sì, eh... Stavi nerdando? Aspetta un attimo! Senta, dottor Jack, ma... Lei per caso è iscritto al mio canale con la cappellina attiva? Ma come potrei non esserlo? Ah, ma che benessere, dottor Jack! Droppa sempre un bel like furbetto sotto tutti i miei video? Certissimo! Grande dottor Jack, senta, ma... Ovviamente sa già cosa accadrà Ma per caso lei ha il pass battaglia? Ce l'ha? Perché le può scegliere o il pass battaglia o una skin all'interno del negozio oggetti, insomma Allora, il pass battaglia ce l'ho A me piacerebbe la skin Dutch Dutch Il coniglietto Ma la sto vedendo anch'io, ma che roba è fighissima! Molto molto carina, signor Jack E per lei, che è un vero fan Questo ed altro Guardi un po' se è arrivato Qualcosa di goloso Grazie! Prego, signor Jack, l'ha già messa? Oh mio Dio! Ma che eleganza, ma che stile! Signor Jack, ora vado a livellare questo pass battaglia Ovviamente avevo questa skin Buon divertimento! Certissimo! E continui sempre a guardare tutti i miei video Grazie! Io sono andato a sbloccare la prima Che dovrebbe essere rarità cromatica Poi c'è la runica E poi quella gold Che sono davvero pazzesche Ma passiamo qui in game Guardate un po' questo parco pacific come strano Non sembra anche voi che è tutto rossa e tutta arancione Beh, ecco, se ci avviciniamo questa texture scompare Ma forse è un piccolo indizio di quello che accadrà all'interno di questo luogo Infatti, non so se ci avete fatto caso Se noi ci avviciniamo già qui all'interno di questo distributore di benzina Possiamo trovare qualcosa di strano Infatti è stato tutto bunkerato Gli è stata costruita una sorta di barriera Forse perché non vogliono Uh, un cecchino bello coloso Forse perché non vogliono che venga distrutto questo distributore di benzina Ma guardate subito qui che cosa andiamo a trovare Proprio una barriera fatta da chissà chi Fatta anche abbastanza bene Infatti c'è un telescopio utilissimo per fare le barriere E lì c'è anche un bel cinghialotto Ma che cosa sta succedendo all'interno della mappa? Sembra che gli abitanti di Parco Pacifico Siano pronti per affrontare una sorta di battaglia Anche qui le finestre sono state bunkerate Non me ne ero accorto Ma tra chi sarà questa guerra? Tra magari gli abitanti della savana Contro i civili di Parco Pacifico Infatti noi ci troviamo qua Tutta questa zona arancione È ovviamente la nuova parte della mappa Quindi tutti gli abitanti incivilizzati Tutti i tizi della savana Gli indigeni Che sicuramente giorno dopo giorno avanzeranno E vorranno andare a colonizzare anche Parco Pacifico E la cosa strana è che non è successa solo qui a Parco Pacifico Ma anche a Corso Commercio A Sabbia Sudata e Becco Anche all'interno di altre città All'interno della mappa Ma occhi amici miei Passiamo subito a un altro segre tazzolo Che arriverà presto in game Ovvero quest'arma qui Già avevamo parlato all'interno dei precedenti video Sarà un'arma molto particolare Infatti dovrebbe essere una sorta di raccogli spazzatura Un'arma spara spazzatura Qui c'è molta molta spazzatura Quindi potremmo utilizzare magari qualcosa di questa robaccia Per caricare la nostra arma Che come vi faccio vedere È predisposta per tre rarità No aspettate Lì c'è un lama sull'albero Top lama Top cecchinata Avremo a disposizione una roba come tre colpi Però possiamo ricaricarla come quando vogliamo Sarà una cosa epica Perché insomma Troveremo i colpi in giro Occhio perché Perché guardate qui chi ho trovato Questi furbacchioni qui Che è stata la cosa più bella all'interno di questo aggiornamento Mi piacciono troppo Come mi piace quella Metto la incastrato all'interno sopra quella roccia No ragazzi Già mi sta attaccando Una cosa che vi voglio far vedere Che non so se tutti la sapete A parte che sono cattivissimi Ma questo immagino lo sappiate bene Che se noi abbiamo delle ossa E un po' di carne Possiamo andare a creare il nostro mantello O comunque possiamo anche tirare la carne In realtà Ci mettiamo il nostro mantellozzo Anzi aspettate perché guardate Vi voglio far vedere Possiamo ammaestrare i nostri Dino Anche in un'altra maniera Però ora si dovrebbe calmare Questo uccellaccio Ok facciamo finta che non ci siamo Ok molto bene Si sono calmati i nostri amichetti Ci avviciniamo piano 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 E dovrebbe funzionare Vediamo se non so Prima l'ho provato solamente Con uno e ha funzionato In due lo vedo molto più complicato Comunque Oh Si è accorto? No No bravo Ci avviciniamo piano 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 Di soppiatto Vediamo Dobbiamo stare attenti A ogni loro movimento Perché possiamo fare una cosa Senza utilizzare il mantello No 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 Ok bravi bravi Continuate Continuate così ragazzi Molto bravi Molto bravi Ma si sono incrociati Che brutta roba Occhio andiamo da lui Che mi sembra molto più docile Oh No Non ci siamo Sembra un due tre stelle Appena tirano sul co Oh ragazzi Ragazzi buonasera Salve Ok Guardate che cosa riusciamo a fare No 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 Amici 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 Ok 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 Li ho domati un po' in ritardo Comunque possiamo Potete domarli tranquillamente Senza utilizzare il mantello Quindi magari se non avete le ossa Oppure non avete la carne Potete domarli in tranquillità Come stavo facendo io Ma ho spinto Guardato un po' in ritardo Altrimenti Vi mettete il bel mantellozzo E li andate a domare Però Signorino Si faccia bravo Si faccia domare così Molto bene Un altro segretazzo Che vi voglio far vedere Si trova cascina colossale Ma prima di arrivarci Vi dico che hanno inserito All'interno del game Degli NPC dei calciatori Questo vuol dire Che la top collaborazione All'interno di questa season Ovvero quella con Neymar Con il personaggio di Neymar E quindi la probabile uscita Della skinna di Neymar All'interno del game Sarà sempre sempre Più vicino Dal momento che noi vedremo Gli NPC dei calciatori Quindi magari dovremo fare Delle challenge E delle sfide con loro Ma ora siamo arrivati Qui dal signor Raz Perché qui Ci dovrebbe essere Una C'è? No? Ok? Blef? Non vedo niente? Forse Ok? No? Ci dovrebbe essere Una cassetta che non c'è? Comunque Vi faccio sentire Questa clip Sentitela in inglese Dove il signor John Ci dice Ascolta il suono Dei cristalli Ma Di che cristalli Stiamo parlando? Qui alla gulia E non solo all'interno Di questa parte Di mappa Guardate che cosa Sta uscendo fuori Un bel cristallino E guarda qua Non riesco a salire Ovviamente Il signor John Prima No ragazza No sto facendo vedere Una cosa Non puoi fare come ti pare Venirmi a interrompere Ma ti devo chillare per forza Signorina Ok ci siamo perfetto L'abbiamo chillata Allegramente E guardate qua C'è proprio Un cristallo E sembra Non so Essere magari Un cristallo Ma possiamo raccoglierlo? Aspettate un attimo Perché questo è Un colpo di scena Se possiamo raccoglierlo No devo fare dei mazzo Ehm No 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 Purtroppo non ci fa raccogliere Un bel niente E forse Probabilmente Erano le armi Che erano sotto Comunque Questa parte Qui Credo Diventerà Tutta cristallina E il signor John Ci ha detto Ascolta il suono Dei cristalli Che però Per il momento In realtà Non fanno nessun suono In particolare E la bruchetto Ti ho visto Salve signorino Lo so Lo so Lo so Lo so Che lei mi vuole sparare Lo so Lo so Lo so E là dentro il bagno Non si preoccupi Non si preoccupi Mi mando una bella granatina Giusto per Salve Ma no Non ho messo il poppa Aiuto Oh mio dio L'ho chillato con la r Pensavo di aver messo il poppa Best kill E mi sono tenuto Gli argomenti scottanti Per la fine Perché sono sicuro Che questa è la cosa Che vi interessa di più Ovvero I magnanimi Signori di fortnite Ci daranno Un bello Oggettino gratis Che è esattamente Questo piccone Qui Come faremo Per ottenerlo Ci basterà Semplicemente Fare delle challenge Le challenge Pasquali Diciamo Io ovviamente Vi porterò Le stile sul canale Quindi lo andremo A sbloccare insieme E se ancora Non siete iscritti Iscrivetevi Ora con la campanella Inattiva Mi raccomando E questa non è L'unica news Di pasqua Signor Gran turco Che cosa mi da Del gran turco Ma no Non mi interessa Grazie mille Perché arriverà O meglio Tornerà Il lanciagranate Il lancia uova Di pasqua Non so se avrà Lo stesso effetto Delle Delle volte precedenti Quindi avremo La possibilità Di tirare Una bordata Di uova di pasqua Ai nostri avversari E una bella news Frizzantina E che oltre Il lanciagranate Arriveranno Anche un nuovo item Che saranno Delle uova di pasqua Che troveremo In giro per la mappa Non ci daranno Vita o shield Se le andremo A mangiare Questo me lo prendo Ma no Ma avremo la possibilità Di ottenere Un super jump Un po' Come era Se ve lo ricordate Quando c'erano I cristalli All'interno del gioco Quindi avremo La possibilità Di girare Di girozzorare All'interno della mappa In modo molto più Molto più veloce In realtà C'è già tantissima roba Per che ci dà La possibilità Di girare Tipo anche Le galline E qui mi sembra Eccola qui La gallina Coccodello Appena vista Salve signora gallina Quindi avremo Quindi avremo molto 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 moving All'interno Di questa Di questa season Ok Eccolo 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 Il tizio E' qua Nell'erbetta La vedo che si sta muovendo Si sta muovendo anche lui Spero che non mi veda Dove diavolo è Ok Credo che sia lui poi Cioè Se si muove l'erba Si dovrebbe muovere Cioè Ci dovrebbe essere un playerino Facciamo una cosa Per non sapere Leggiene e scrivere Io due tre granatelle Gli le tirerei Però No E' uscito dall'altra parte Qui è calato il buio Eccolo Ti ho visto Oh no Ma perché non ci prendo mai Con questa R C'è R Una sorta di Distruggiamo un po' Perché lui dovrebbe essere E' qua sotto E' qua Oh 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 No sono morto Come un citriolo Fermi 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 Bravi 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 Sparatevi tra di voi Ho uno di vita Aiuto Sono morto Ufficioso Signori E' stato un piacere Sicuramente Stanno a vorrei morire Scappa 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 Corri scappa Corri scappa Oh no Questo ha fatto un giappa Ma guarda che sfiga Ma sempre contro Ai 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 E questo è un fenomeno Questo è un fenomeno E sa che ci siamo bianchi E sa che siamo Ma sempre contro i fenomeni Ma devo andarmi a immischiare Ma per quale ragione Non mi fate giocare a questo gioco Fermi Vado a sviscidare nel cespuglio Se ci arrivo Questo sto pushando con l'arco Lo sento Eccolo 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 E' qua dietro Lo so lo so lo so Siamo morti Di prego cespuglio Di prego Di prego Di prego Ok mi sono incespugliato Scildinato Sono pronto per morire Amici miei Ma me ne succedono tutti Ma all'interno di questo gioco Come ho fatto a prendermi Il bugio Non è il cespuglio L'istra All'interno di questo gioco